E' una questione di dimensione, davanti a noi il nostro Roby Fiaschetta che ci sta tenendo la strada, è il nostro scout, è lui che ormai da tempo ci porta avanti e indietro per questo percorso spesso si perde, in questo momento per esempio io sto guardando ma non lo vedo, tu lo vedi Max, Roby, non lo so, Roby, 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 oh, Roby, oh, ciao, che cazzo fai lì dietro? Tu non si vedi, sto cagando, ma adesso stai cagando, stiamo andando all'incontro con... Senti, 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 birretta, birretta, sigaretta, cagata, stretta, stretta Come dai di torte? Eh? Red Wine Smoking Club ragazzi Ma ce l'hai la carta? Ce l'hai? Questa è Red Wine ragazzi, vi lasciamo con un altro pezzo, sempre a random stasera, quindi quello che c'è, c'è, cuccate con anche Heidi, Red Wine Smoking Club, continuo l'apertura per questa prima puntata non ufficiale E ma più tempo è di noi, si saprà